Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono Martina e sono qui per parlarvi di qualcosa che amo profondamente, la fotografia. Prima di immergerci nel concreto voglio raccontarvi qualcosa su di me. Sono Martina, un art director, fotografa di moda e di commerce specialist. Ho lavorato nel settore per ben oltre sei anni e durante questo percorso ho imparato che l'importanza del successo di un negozio online sono fotografie di qualità. Quindi con gli anni ho sviluppato un mio metodo che ho racchiuso in un corso rivolto a tutti coloro che vogliono migliorare le proprie foto o che hanno una startup e vogliono vendere online creandosi i contenuti in autonomia. Magari vi state chiedendo perché insegnare online? Allora la risposta è semplice. Ho visto tante persone desiderose di imparare ma che trovano difficile accedere a corsi di qualità. Ecco perché ho deciso di portare la mia esperienza direttamente a voi e vi insegnerò tutto ciò che c'è da sapere sulla fotografia per e-commerce, dalle basi della composizione fotografica ai segreti per creare immagini che vendono. Sarò la vostra guida passo dopo passo e qui su YouTube vi condividerò alcune chicche speciali e interessanti riguardanti il mondo della fotografia e non solo. Questo canale quindi mi rappresenta a 360 gradi. Il mio obiettivo è farvi sentire sicuri con la vostra fotocamera e aiutarvi a trasformare le vostre immagini in strumenti potenti per il successo del vostro business. Tutto ciò è correlato anche alla crescita personale, migliorare anche come porsi con i clienti, avere sicurezza nelle proprie risorse e in tutto ciò che ci serve per avere la self confidence necessaria per poterci far sviluppare le nostre competenze pari passo con noi stessi. Se siete pronti ad iniziare questo viaggio con me, iscrivetevi al mio canale e se volete imparare l'arte della fotografia e di e-commerce trovate il link del mio corso nella descrizione del video. Per altri dettagli e link trovate tuttora nella descrizione del canale. Grazie mille per aver guardato questo video, spero che vi unirete alla mia community. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi per non perdere nessuno dei miei video. E mi raccomando seguitemi sui social per non perdervi nessuna novità e commentate qui sotto se ovviamente vi va per suggerirmi alcuni argomenti che vi piacerebbe che io trattassi. Ci vediamo nel prossimo video!